Scusami Nick, non perché mi voglio impicciare, insomma, voglio che hai fatto tu, ma tu con tutti questi problemi economici che c'hai, no? Insomma, ti vendi mobili, come fai a permetterti un maggiordomo? Non ho papà, gli ho lasciato la sua vecchia camera e lui, in cambio, tiene un ordine da casa. Però, la sera esce come un vampiro e va a servire nelle cene più sofisticate, più raffinate di Londra e ricercatissimo.